Questa mattina abbiamo con noi, l'avete visto, il Presidente della Commissione Agricoltura del Senato, Paolo Scarpa, parleremo di Vinitali da qui a poco. Tra l'altro è stato importante per noi del Veneto orientale questo Vinitali in modo particolare per un motivo, perché c'è stata la presentazione ufficiale del Padiglione Veneto, io ho partecipato assieme al Ministro Galanga, assieme ad altri amici, venerdì mattina, del Lison DOCG. Abbiamo pochissime DOCG, denominazione di origine controllata e garantita nel Veneto, ne abbiamo pochissime, abbiamo il Prosecco nella zona storica, tradizionale, abbiamo la Marone e abbiamo oggi il Lison, che altro non è che il Tokai, il nostro vecchio Tokai. Quanto manca questo nome? Quando ci manca? Manca perché, guardi, io lo considero un, non dico un furto, ma qualcosa veramente scorretto che ci sia stato fatto dall'Unione Europea, perché tenga conto, io sono stato a Budapest la scorsa settimana, ma già lo sapevo, il Tokai, che poi non è il Tokai, il Tokai ungherese. C'è scritto con la K e con la J, se non sbaglio. Ma poi è tutt'altra cosa, è scritto con la K, con la J, è un altro vino, è un vino dolciastro, è un vino da dessert, è un vino passito, non ha nulla che vedere un vitigno diverso, quindi è stato veramente un atto un po' violento che ci è stato combinato dall'Unione Europea. Comunque oggi il Tokai non c'è più. C'è il Lison, c'è il Friulano in Friuli, c'è il Lison da noi, che è l'elemento, io credo, anche per rilanciare ancora di più sotto il profilo della qualità e della riconoscibilità a livello nazionale, internazionale, la produzione vitivinicola di tutta la nostra zona. E guardi che questa è una grande opportunità. Ma secondo lei ci sarà la possibilità che questo vino di cui lei sta parlando possa riuscire a sostituire nel sentire comune il Tokai, cioè che riesca a prenderne... Il Tokai fa parte della nostra vita, perché per noi veneti in particolare, noi del Veneto orientale, provincia di Treviso, provincia di Venezia, Mappordenone, Udine... Tokai era qualcosa di caratteristico, connaturato, con il nostro essere vino, essere produttori e anche bevitori di vino. Il Lison è un nome che è naturalmente un nome identitario, perché corrisponde a una località... Lison cos'è? È una località accanto a Portuguaro, del portugarese, quindi è un profilo identitario. Certo, ci vorranno degli anni per affermarlo a livello internazionale. A livello nazionale è già abbastanza conosciuto, certamente questa denominazione di origine controllata e garantita, non DOC solo, ma DOCG, è molto importante per renderlo ancora più nobile, ancora più apprezzato, ancora più denso, pieno di quella qualità di cui il consumatore ha... Qualche...